E' stato anche importante scrivere per questa sala, ecco, voglio dire, io ho scritto i brani, li ho ritoccati anche, i brani di mio padre, li ho un po' ritoccati. Per adattarli all'acustica di questa sala. E per adattarli all'animo russo, all'animo così romantico, così passionale della Russia. Quindi ho aggiunto molte percussioni. E' il finale delle battaglie d'Algeri, per esempio. Tutto il pezzo, che io ho fatto l'arrangiamento di questo brano. E' il mio arrangiamento, stasera sentirete l'arrangiamento che ho scritto io, non una versione di mio padre. Molto diverso, sentirete un altro grande affresco. E per questo è una buona, molto buona fresca. Grazie. Grazie.